Stenta ancora a decollare la bella stagione sul bacino del Mediterraneo centrale, causa un flusso occidentale e aria moderatamente instabile per la presenza di aria fredda in quota. In Toscana, mercoledì 29 di maggio, parzialmente nuvoloso per nubi miste sia alte stratificate che basse nei fondovalle. Nel pomeriggio possibili rovesci temporaleschi sparsi su rilievi e nell'interno. Esaurimento dei fenomeni in serata, venti deboli settentrionali con componente di brezza lungo la costa, mari poco mossi, temperature massime in lieve aumento con valori fino a 26-27 gradi. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a nuvoloso fino a velato. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 14, massima 24 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane e zone montane minima 12, massima 24. A Viareggio e sul litorale minima 15, massima 22 gradi. Giovedì nuvoloso con precipitazioni sparse nel pomeriggio sera a prevalente carattere di rovescio o temporale.